Non ci si poteva forse aspettare di più, ricordiamo che è al ritorno, dopo l'infortunio in nazionale, ritorno per l'appunto in nazionale. Siamo già pronti per la quarta rotazione con Emily Armi alle parallele, quindi Emily Armi che cercherà il tutto per tutto per dare un contributo alla Nazionale Azzurra per cercare di raggiungere il secondo posto. Forza Emily, accidenti, non ci voleva, peccato perché è un movimento quasi di collegamento per lei, aveva fatto un esercizio fino a là impeccabile, è stata bravissima e poi questo strano incidente. Forza Emily. Riparte quindi Emily Armi, cercherà di recuperare l'atleta di Montevarchi che gareggia per la Gal Lissone, probabilmente predilige maggiormente il corpo libero, abbiamo già sottolineato i suoi risultati, ecco qui il suo terraggio. Ma era un buonissimo esercizio, era veramente un eccellente esercizio.